Sulla strada che conduce a Vrestalmania anche oggi vi ho portato le ultime news e allora partiamo con Randy Orton che ha recentemente parlato del rapporto che lega The Undertaker allo showcase degli immortali. Lui e l'evento camminano mano nella mano, ha detto la vipera, ed è una sfortuna che vi abbia perso un paio di anni fa. Credo che quella sconfitta non dovesse accadere e che chiunque sia d'accordo con me, a parte forse Paul Heyman e Brock Lesnar. Certo, non ritengo che quel risultato comprometta la sua carriera, semplicemente odio che la sua striscia vincente sia stata interrotta. Randy ha anche aggiunto che secondo lui The Undertaker contro Roman Reigns dovrebbe essere il main event della card. Un'opinione forse spiazzante, controcorrente. Voi cosa ne pensate? L'hashtag è solito dita roventi qua sotto i vostri commenti. Quale deve essere il main event di questa edizione di Vrestalmania tra i match annunciati? Nel frattempo c'è un gran parlare attorno a Jeff e Matt Hardy e il loro rientro in WWE pare sempre più probabile. I social network della federazione hanno fatto alcuni riferimenti ai due utilizzando anche la parola broken che ha definito il personaggio di Matt Hardy negli ultimi anni. Con l'atleta, cioè con Matt, che ha risposto ai tweet della federazione in maniera diretta ed evidente. Come vi ho riferito alcuni giorni fa in questa stessa rubrica che gli Hardy ritornino in WWE, per molti non è una questione di se, se torneranno, ma una questione di quando, quando torneranno. Se tutto è andato come previsto, ieri Paige e Alberto Del Rio si sono sposati. La ragazza su Instagram ha scritto, sono al settimo cielo con il mio amore, ci sentiamo felici e sani. Questo è un po' l'adattamento in italiano delle sue parole. Mentre sto registrando il video, quindi è la mattinata di giovedì, di foto in giro non ne ho trovate. Magari usciranno più tardi, però con questi due non c'è mai da essere sicuri su nulla. Chiudiamo con due brevi annotazioni. Jerry The King Lawler ha dichiarato che in futuro ci saranno meno ingressi annuali nella Hall of Fame di WWE, perché i discorsi dei premiati sono diventati sempre più lunghi e articolati, e Vince McMahon desidera sia lasciare loro il tempo per esprimersi, ma anche uno show dalla durata ragionevole. E infine Mauro Ranallo, avrete seguito la sua epopea in questa videorubrica nei giorni scorsi, il telecronista di SmackDown assente nelle ultime settimane per depressione, lui è un personaggio con dei problemi di bipolarismo e quant'altro. Ok, Mauro Ranallo è tornato a scrivere su Twitter augurando a tutta la famiglia WWE una buona Vrestelmania. La forte sensazione dunque è che non sarà presente come telecronista nemmeno alla Kermesse. Ci saremo invece noi di Sky Sport, io Luca Franchini e Salvatore Torrisi. Nel weekend magari avrete meno notizie perché chiaramente dovrò concentrarmi sulla preparazione anche fisica, non solo mentale e psicologica per la lunga diretta, ma comunque il mio profilo YouTube vi terrà compagnia con tutte le sue altre rubriche.